E' da generazioni in generazioni che la mia famiglia trasmette l'amore per la campagna e l'alimentazione sana. E con passione e impegno la trasformiamo nell'arte di fare buona mozzarella. E' così che nasce l'azienda casearia Eroiovine, che è in sede in Crispano di Napoli, nel cuore della campagna, capitale rinomata della mozzarella di bufala. La nostra mozzarella è prodotta in modo artigianale grazie a un processo messo a punto in anni di tradizioni casearie. Inoltre utilizziamo solo latte di bufala. Questo ci permette di realizzare una mozzarella di sapore unico e che dà famosa in Italia all'estero. E' dal latte che ha inizio una lunga e attenta preparazione del prodotto. La selezione genetica delle bufale, l'accurata attenzione dell'igiene, la perfetta raccolta del latte con sluvolosi e costanti controlli. Assicurano ai prodotti Eroiovine caratteristiche di qualità superiori. Il confezionamento avviene in impianti ad alta tecnologia e in atmosfera modificata. Questo consente di mantenere inalterati la freschezza e il gusto dei prodotti. Grazie ai nostri automedici e un'efficiente rete di trasporti nazionali ed esteri, Eroiovine assicura al consumatore un servizio di rifornimento accurato e puntuale, in linea con le più complesse esigenze della moderna distribuzione. La mozzarella è un alimento ricco di qualità nutritive e universalmente apprezzato per l'originalità del sapore e per le sue infinite possibilità di utilizzo in gastronomia. In molti ci chiedono il segreto della nostra mozzarella. La ricetta vincente è un mix di accuratezza e semplicità. Tutto questo contribuisce ai prodotti Eroiovine a un marcio di qualità in Italia e nel mondo.